Dunque, non si incomincia con dunque, vero? Terrei a precisare che questi dialoghi, questi monologhi che faccio, vogliono essere degli spunti di riflessione. Mi auguro che attacchi ascolti mettono in moto dei processi e che si completino dentro di te con degli insight o delle comprensioni tue piuttosto che, diciamo così, che mie. Stiamo andando avanti con il nostro discorso sulla paura e vediamo quest'oggi il legame tra la paura e il dolore. Ripensiamo la storia, dicevamo paura, interruzione, interruzione distacco da se stessi, ma interruzione paura, eh scusate, interruzione paura, paura dolore. Per cui, vediamola a strati, quando proviamo dolore non ci rendiamo conto che sotto c'è la paura di provarlo o di riprovarlo. La paura che da questo dolore nasca qualche cosa di peggio, che non passi o che sia una malattia piuttosto grave. Quindi, quello che stiamo cercando di comprendere è che ci sono delle stratificazioni, delle manifestazioni stratificate. Abbiamo visto nelle volte scorse la paura come minaccia di sopravvivenza. Poi l'abbiamo vista come mancanza di energia, depressione, mancanza di entusiasmo per la vita. Oggi lo vediamo in quanto dolore, in quanto il dolore sia figlio della paura e quanto la paura nutra il famoso dualismo della nostra mente, il nostro comportamento duale. Quando io ho dolore, è evidente, voglio che passi. Quando ho dolore io cerco il piacere del fatto che il dolore passi. Ma non mi accolgo che in questo dualismo io mantengo in realtà la cronicizzazione, mantengo in realtà il legame con la paura sottostante. Perché io possa davvero superare il dolore. Primo devo entrare nel dolore, stare in contatto, accoglierlo, accettarlo. E riconoscere che è nel dolore stesso. Il dolore stesso è il processo di guarigione. Il dolore stesso è l'emanazione della mia forza vitale. Passa di lì. C'è stata un'interruzione. C'è un malfunzionamento. C'è un'infiammazione. E quindi c'è un dolore. Ma è il processo vitale in sé. Se io non ci mettessi sopra la paura, questo dolore verrebbe affrontato in modo estremamente più agevole. Questo vale per il dolore, ma vale per molte altre situazioni. Il problema vero non è il dolore, ma tutto quello che noi ci mettiamo sopra. E alla fin fine la madre di tutte queste costruzioni che facciamo sul dolore è guarda un po' di nuovo, nostra signora oscura, la paura. Dico questo perché attuare strategie per far passare il dolore significa restare all'interno del dualismo piacere-dolore. E quando avrò piacere cosa succederà? Avrò paura che ritorni il dolore, che finisca. Invece dovrei imparare a stare pienamente sia nel dolore che nel piacere della famosa qua nel metà buddista. Uno dice ma come? Sono masochista. No, intanto il masochista non desidera il dolore. Il masochista ha bisogno del dolore per potersi permettere il piacere, per potersi lasciare andare. È talmente compresso dalla colpa che il dolore gli consente di lasciare andare un po' la tensione e quindi di provare il piacere. nessuno vuole il dolore. Stiamo dicendo qual è il modo migliore per superare il dolore che è smascherare la paura che ci sta sotto e che è accoglierlo pienamente, passarci attraverso, immergersi dentro come se fosse una notte di nebbia oscura o come se fosse una foresta da attraversare. Guarda un po' così come ci è successo alla nascita. Pensa se ci fossimo bloccati prima, se avessimo combattuto quel dolore, quella spinta, quella strettoia non saremmo nati. Se noi riusciamo a vedere che attraverso il dolore c'è la rinascita, il dolore è la prima delle grazie, dice Sant'Agostino. Trattarla come la prima delle grazie non vuol dire desiderare il dolore o rimanere attaccati al dolore. Vuol dire passarci attraverso, riconoscendolo come manifestazione del processo stesso della vita, della forza della vita. Riconoscendolo come il frutto di quel tentativo di superare l'interruzione e le varie interruzioni nate dalla paura che si sono a poco a poco stratificate. Quindi smaschera il dolore, smaschera la porra che ci sta sotto, smaschera tutto quello che fai al dolore. Dolore sia fisico che emotivo, che psichico. Passaci attraverso, immergiti dentro come se stessi attraversando una notte di nebbia. E incominciai a vedere filtrare la luce della luna e poi incominciai a vedere i chiarori dell'aurora, poi dell'alba e poi il sole riprenderà a splendere.